Non sarà della partita le elezioni regionali del 26 gennaio la lista 10 idee per la Calabria se fino a domenica era solo un rischio che il centro-sinistra perdesse una delle quattro gambe sulle quali poggia la coalizione che sostiene la candidatura a governatore di Pippo Callipo. Ieri è diventata realtà con l'esclusione da parte della commissione centrale elettorale presso la corte d'appello di Catanzaro dove il problema era stato sollevato sabato all'atto della presentazione della coalizione in quanto nella documentazione presentata non era stato inserito il collegamento al candidato. Callipo in qualche modo aveva già ostentato serenità nei giorni scorsi quando aveva affermato che comunque la lista avrebbe assicurato il sostegno alla sua causa. Tre dunque le liste io resto in Calabria, partito democratico e democratici progressisti che sosterranno Pippo Callipo ieri in visita a Nardo di Pace da dove ha affermato di aver voluto partire proprio da qui dal cuore verde e spirituale della Calabria per fare capire a tutti che non è più possibile sopportare l'indifferenza della politica verso l'entroterra, verso la montagna abbandonata.